eccoci qua cima allo scermendone ora io michele fabio e diego ci prepariamo e si decolla allora ragazzi praticamente dovete prima gonfiare la vela poi decollare mi raccomando non invertiamo le cose una volta abbiamo invertito è stato un po un casino scermendone siamo saliti a piedi françoise ha uno bad z7 da provare nuovo 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 aperto a 1340 metri che non è male 2340 metri latitudine abbiamo lasciato una macchina alla braccia il ristorante la braccia siamo saliti fino a preda rossa con un altro mezzo e abbiamo fatto da preda rossa a qua a piedi potevamo decollare anche da là ma non mi ero abbastanza soddisfatti ho preferito fare altri 20 minuti di camminare ottima attento al cambio di pendenza bravo vai a destra guarda fabio com'è alto bravo va a destra guarda Grande Giomo! Grazie per la visione!